Siamo alla trentesima domanda del Catechismo di San Pio X che recita così, che cos'è il mistero? Risposta, mistero è una verità superiore ma non contraria alla ragione che crediamo perché Dio l'ha rivelata. Allora il mistero è qualche cosa non che non si conosce, allora purtroppo nel linguaggio corrente un mistero è una cosa che non si sa. Chi è l'assassino? È un mistero? Non si sa. Allora, innanzitutto si può non sapere ma l'assassino c'è perché se è stato ammazzato qualcuno, qualcuno l'ha assassinato, quindi c'è. Per il momento non lo conosciamo ma nella religione cristiana mistero non è questo. Mistero è una verità di fede di cui si fa esperienza concreta sia materiale che spirituale che è anche intellettuale. Allora, quindi è una verità che supera la nostra ragione ma il fatto che la superi non significa che sia contro la ragione. Vi faccio un esempio. L'amore è un mistero. Noi possiamo andare da un medico che ci spiega da un punto di vista biologico, fisiologico che cos'è l'amore ma l'amore non è quello. Contiene quello ma è molto di più di quello. Quindi se noi spieghiamo una persona, un marziano, che cos'è l'amore, gli spieghiamo tutti gli suoi aspetti fisiologici, quello non capisce niente, non è sufficiente. È un mistero, cioè qualche cosa che tu ne fai esperienza e allora lo sai. Tutti noi sappiamo che cos'è l'amore perché l'abbiamo ricevuto, spero, la maggior parte di noi e proprio perché lo abbiamo ricevuto sappiamo in qualche misura, magari anche imperfetta, donarlo agli altri. Ma è qualche cosa che se lo spieghi la tua spiegazione non è sufficiente perché non contiene tutta quella ricchezza che è l'amore. Allora il mistero è qualcosa che supera la nostra ragione ma non è contrario alla ragione. Tu sai con la tua ragione che cos'è l'amore? Sì e no. È molto più il no che il sì. Eppure non dici che l'amore sia una fandonia, a meno che tu non sia proprio un cinico miscredente nei valori fondamentali anche dell'uomo. Allora il mistero religioso è una verità superiore alla nostra ragione a cui noi crediamo perché? Ma perché Dio che merita fiducia, perché Dio, perché amore, perché verità, perché creatore, perché è quello a cui nulla è nascosto perché lui ha creato tutto, ce l'ha rivelata e come si fa a non credere al buon Dio? E allora ripetiamo la domanda che cos'è il mistero. Il mistero è una verità superiore ma non contraria alla ragione che crediamo perché Dio ce l'ha rivelata. Grazie a tutti.